Ascoltatori, io mi sono accorto del cambiamento atmosferico. Guardate in questo momento come è suggestivo la costiera di Cech, ma guardate ben di fronte, parte dalla parte in alto di Dubino e va fino all'ultimo paese di Desco, ma in questo momento è proprio una fiaba. Si è distaccato dal cielo della Valtellina una strisce di nube, una strisce che determina come una fessura, un taglio della montagna di fronte. Ma guardate che spettacolo così bello, da tanto tempo che non le vedevo. Nel giro di un'ora è cambiato la visione ottica, dove il mio occhio favilla in una lamina che taglia decisamente la montagna, come se dovesse tagliare all'epoca passata il cuore di quelle persone che non volevano cambiare religione. Ebbene, una spada nel cuore li colpì nel castello di Domofolo, dove la regina Teodorinda, così dice la leggenda, rimane chiusa. Per diverso tempo, io, studioso, ve l'ho raccontato la storia, ma adesso che mi interessa in questo momento è l'atmosfera che quali nubi entrano nel mio io, nella mia ansia di vedere al di sopra un cielo così bello, un cielo così immenso dove non potrebbe esistere. una persona la quale dice che è brutta. Non può esistere. Guardate in questo momento e in fondo di là. Ecco l'annuncio! Annuncio ritardo. Annuncio ritardo? Vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo. E questo è classico, va bene, va bene, ma intanto io sto qua ad ammirare in dieci minuti il cambiamento dell'atmosfera, di questo clima, catapultare una sintesi così. Devo dire che è un'eccezione l'essere, un senso naturalistico. Ecco che riapparrono le montagne superiori con un accenno, uno spruzzo di neve, dove questo spruzzo di neve delle montagne della costiera di Cecche determinano il confine tra cielo e terra, oltre quella nube che continua a viaggiare, viaggiare e tra poco scendirà in quel paese denominato Mello. Questa è l'apparizione bellissima, come un teatro che apre il sipario. Cosa c'è di più nella vita di guardare la natura? Il capovolgimento del senso climatico.